In Sicilia con la nuova Jeep Cirochi e la possibilità di personalizzazione offerta da Mopar, Skoda svela alcuni dettagli del suo primo SUV sportivo Kodiaq RS, BMW stupisce tutti e presenta la prima GSR 1002 a guida autonoma. BMW presenta la sua prima moto autonoma, è una GSR 1002 ed è la creazione degli uomini dell'elica portata al BMW Motorrad Tech Day 2018. Nell'area test di Miramai in Francia ha fatto il suo primo giro autonomo davanti agli occhi di alcuni giornalisti. Sviluppata dall'ingegnere Stefan Hans e dal suo team il veicolo parte in modo indipendente, accelera, gira nel tortuoso circuito di prove e rallenta fino a fermarsi. L'obiettivo, penserete, è quello di andare verso un mezzo totalmente indipendente, invece no. La tecnologia di base applicata su questo esemplare servirà da piattaforma per lo sviluppo di futuri sistemi e funzioni che rendono le due ruote ancora più sicure e confortevoli. Non solo guida autonoma, però BMW ha colto l'occasione per mostrare alcuni progetti come i fari che seguono la traiettoria del veicolo o un telaio realizzato con un processo di stampa 3D. A qualche settimana dal Salone dell'Auto di Parigi, Skoda ci fornisce qualche dettaglio del suo primo SUV sportivo Kodia HR-S. Gruppi ottici a LED, strumentazione digitale virtual cockpit e la funzione Dynamic Sound Boost esaltano la potenza. E la dinamicità del motore 2000 Turbo Diz da 240 CV che abbinato alla trazione integrale garantisce ottime prestazioni anche quando si abbandona l'asfalto. Oltre alle classiche modalità di guida si aggiunge anche la Sport. È il primo veicolo Skoda lotato del Dynamic Sound Boost, un sofisticato sistema che analizza i dati dell'elettronica di bordo e li sfrutta per variare o intensificare il suono del motore. In base alla modalità di guida selezionata, che dire, lo aspettiamo a Parigi. Presentata in Sicilia, nuova Jeep Cirochi, un SUV spazioso, grintoso e funzionale in grado di trovarsi a suo agio sia fra le vie della città che soprattutto quando la si porta a fare un po' di sano fuori strada. All'evento era presente anche Mopar, il brand di FCA che si occupa delle componenti e dei servizi post vendita che ha deciso di esporre un esemplare di Cirochi personalizzato con alcuni degli oltre 90 accessori disponibili. Fra questi è possibile optare per due differenti pacchetti che garantiscono al cliente un risparmio di circa il 25% rispetto al prezzo degli accessori comprati singolarmente. Il pack of fraud include la decalcomania per il cofano, le calotte degli specchietti nere, la pratica vasca per il vano baule, i tappetini in gomma all weather. Ad assicurare la massima protezione contribuiscono poi le rock rails, completa la personalizzazione, il badge distintivo Jeep Performance Parts. Il pacchetto Urban invece si caratterizza da diversi accessori cromati come le calotte degli specchietti, le maniglie, i battitacco e i tappi coprimozzo con il logo Mopar. Sulla nuova di casa Jeep sono poi disponibili cerchi lega 17 e 18 pollici e Mopar Connect, l'innovativo set di servizi connessi dedicati alla sicurezza e al controllo remoto del veicolo.